Care amiche, cari amici delle fasce, nasce Sapori a Nord-Est. È un progetto che nasce per far conoscere a tutti voi la nostra tradizione culinaria, la tradizione culinaria del Friuli Venezia Junior. Fa parte del progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso, nel 2020, e che ha visto come inizio l'insegnamento della lingua italiana. Questo è un progetto che già conoscete perché ha avuto un buon successo in tutto il mondo. Poi abbiamo anche girato dei video per raccontarvi della nostra terra, dei nostri costumi, i nostri usi, le nostre abitudini, il nostro territorio. Con Sapori a Nord-Est vi introduciamo nella nostra cucina, quella anche di un tempo, dei vecchi sapori, i sapori che i vostri antenati, che i vostri avi, che i vostri progenitori si sono sicuramente portati dietro quando hanno raggiunto tutte le parti del mondo. Noi cerchiamo, con questi filmati, di farvi avere quelle sensazioni e nella speranza che voi cuciniate per i co-regionali, ma anche per gli amici dei paesi dove vivete e rinsaldiate le tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti.